Buongiorno ragazzi, è un altro vlog oggi e non inizio dalla mia camera d'eletto perché mi sono svegliata abbastanza tardi e poi dovevo correre per prendere il pulmo e quindi ho detto mi vesto, mi pettino, mi tru... pettino, mi scioglio le trecce, mi trucco e vado. Finalmente sono qua, 5 minuti di anticipo, incredibile, spero che il pulmo non sia passato prima se no è un bel problema. Comunque sto andando a incontrare le mie amiche Natalia, Federica, Chiara e forse Rebecca perché andiamo a mangiare qualcosa, poi facciamo un giro e sono proprio distrutte perché, non so se lo sapete, ma ad agosto vado a Londra e ieri ho prenotato... megan ha prenotato il volo per me, lei e una nostra amica Francesca, quella che avete visto nel vlog di Milano, sì e però non abbiamo ancora prenotato l'hotel e stiamo completamente impazzendo perché abbiamo trovato degli hotel, ma poi vedendo le recensioni che non erano il massimo anche se quelli in cui sono stata in precedenza non erano granché, devo dire, anzi, vedendo adesso le recensioni... e quindi siamo alla ricerca di un hotel, quello dell'anno scorso in cui eravamo andati io e megan non va bene, scusate ho dovuto cambiare braccio perché faceva male costa decisamente troppo, l'anno scorso era proprio... grazie l'anno scorso era proprio un'offerta così sto facendo passare tipo 3.000 macchie, qua non passa mai nessuno, proprio oggi, adesso, in questo momento, devono passare le macchie comunque spero che questa ricerca finisca il più presto perché non ce la faccio più andare a cercare su un sito, 3.000 hotel avrò visto almeno qualcosa come una 50 mazza che è... ok con una trentina di hotel, una cosa del genere, però è davvero... stancante c'è gente strana in questo posto ciao ciao ragazzi, sono con quella fede nooo, non ci vedevamo da... nooo, mesi, mesi dal primo vlog che ho postato, quello dell'ultimo giorno di squadra però è tanto tempo, se ci pensate cioè non so, perché vedersi tutti i giorni e poi all'improvviso non vedersi più stiamo aspettando che la Natalia, la Fiori e Smon, che sono ancora dentro tanto c'è gente che sta comparendo così a caso nel mio vlog e non lo sa guardate un po' comunque quali sono i piani per oggi? i piani per oggi, mangiare, mangiare perché io fanno dormire, non mangiare dormire? poi per un giretto si gelatino magari gelatino, tattico, tattico ciao Nati ciao allora, sai che non sei in focus? meno male ma lei è Chiara hello hello quant'è la maniata con gli unicorni? poi c'è la Nati grazie a Dio perché sei piaciuto di me mi sento male non mi dà poi c'è ancora la fede wow perfetto Rai, cosa avete preso? Fede, tu devi preso da mangiare? wow, healthy io ho qualcosa con il ragù perché non so dirlo ehi la piedina ho qualcosa di un sorella perfetto l'hai mangiata? si, si la cosa è che ci mancherei cos'è? cioè la piedina con attivazione è una cosa così strana che non so le piedine per voi mangiate pure perché ci vuole un po' di te parlando di piadina buon appetito è arrivata mangia pure mangia va sento il profumo da qua la salate la salate poi arriva dopo ma ci arriva tra poco e non preoccuparti io lo so che ci arriva tra poco i suoi sono quelli che arrivano per ultimo secondo me perché ci voglio più tempo quasi scusa un attimo un attimo sì no avevo capito ma non è che ho fatto questo tutto ho girato il tappino mi dici smoothie perché devo fare perché please just tell me aspetta no non ti ci metti anche tu smoothie oh that's good smoothie 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 oh ti ho zoomato un bo grazie il mio couscous è arrivato quello della fede pure quello della hai fame? non te lo dico te la mangia andrei sto già mangiando anzi quasi anche già finito no lindy io ho fame non ci sono i bambini dai adesso adesso arriva non preoccuparti bene fermati vado a prendere l'olio ah vai tutto hai qualche preferenza? no c'è l'ex ma vai io direi di prendere ok vuoi ketchup questo è olio? perfetto tanto anzi tieni cara vuoi incassare? no no vieni così perfetto grazie di vederci grazie di vederci i ragazzi sono fuori ciao raga ciao bastarda dove andiamo adesso? andiamo da sdragalli pinalli a prendere la crema se no passiamo di qua uguale non lo so raga se conoscete i pinalli va bene perfumeria comunque e poi a prendere un giro il mio nonno tutto colore la vuoi te la crema antirughe non so anche io la voglio la crema antirughe che la comprerò quando lo chiedo alla commessa scusi una crema antirughe ma per te nooo nooo la nazione sta cercando di capire come si muove pure le braccia come si muove le braccia? si guarda ma è bagno sfuma? guardi eh si ah si shower gel e dove lo prendi? e dove esce lo shower gel? eh fai così magari se non ho bisogno di staccarti nei campi lo staccarti brava l'ulk no è Hulk? no si no scusate ho paura che mi rimanga in mano un po ah sai cosa magari si qua ruoti ma questa da dove lo togli? eh infatti ah da qui da qui ma come? guarda mi assomiglia andiamo Anna bb a picco a picco raga scusate ma stiamo cercando di capire da dove potete poi riuscire il bagno a schiuma prova tu prego secondo me si sviluppa da qua lei l'ha crepito su voi vai giù bravo di io ciao back ok ho visto la natura della scuola un piacere Rebecca chiara filmerò questo incontro madonna tranne la storia sotto cielo ce la ricorderemo per tutta la vita ciao la nati tra un po' se ne va perché c'è l'oggi perché domani ho un'interrogazione di matematica per l'ultimo giorno di scuola è vero che tu vai ancora a scuola anche tu vai ancora a scuola solo domani e poi avete finito meno male tu sei già a casa da moi invece e beh ma ok non posso dire niente la nati tra l'altro ha fatto il shopping mostraci cosa hai preso la maglietta che ci ha scritto non lo dico pantaloni denim pull and beer beh tu dici pull and beer però non lo so se è giusto ma io dico pull and beer o sono l'unica cioè raga guarda cosa fa la nati al portafoglio questo è il mio che si dice il portafoglio oh madonna trauma oh ti aspetta oddio il portafoglio wallet wallet this is my wallet ciao let's go cioè raga la nati ha fatto un'opera d'arte che più d'arte così non si può che si può esporre la tate modern io la vedrei benissimo adesso ve la faccio vedere è la national gallery ah la national gallery pure ma però sembra la tour e sell può così torre di pia caduta adesso che coperà ci siamo andati dalla gelateria perché la cosa stava cioè era troppo il degrado grazie linda per inserirmi sempre e tu non mi vuoi mai non mi abbraccio mai ma sempre che voglio mi vieni qua ci stanno guardando male in gelateria no? si malissimo raga cioè non potete capire e quindi abbiamo detto beh è meglio andarci sì ho detto che è meglio andarci prima che non so prima che no cioè perché non avremmo fatto una bella impressione cosa hai preso? un po' pensavo che prendessi il cioccolato di Oreo e non ti stessa adesso ci posso creare tradrittrice degli Oreo te ne do uno no don't worry don't you worry siamo reduci da aver letto tipo tre libri tre libri dai un'oretta siamo stati qua cioè non tutti i libri no no pezzi di libri se no prima li interagiamo si può creare libri in un'ora bestia sono dei bombi ci starebbe però sai io ti lascio qua ciao ciao ah è vero what's up what's up let's go what's up secondo me io cado adesso sì già cado di mio poi se sto vloggando oh allora let's go voglio fare parte 2 spavento parte 2 adesso mi è stato non ce la fai non ce la fai ce l'avevo fatto però boh daaaah oddio c'è il bimbo sulla bimbo linda c'è il bimbo sulla bimbo guardate che figata ma perché io non ce l'avevo quando ero piccolo scusami becca ancora qua cioè ragazzi voglio farvi vedere il disastro che sono effettivamente le mie cuffie cioè io vado in giro così sono disastrosi proprio ah e ovviamente oggi starbucks comunque adesso sono a fare la scusa con mio padre e cerco di muovermi perché devo andare a casa a caricare il video ok ragazzi devo stoppare al fiesoi wait ok beh chiudo qua il vlog perché sicuramente non farò appunto nient'altro interessante e ci vediamo domani con un altro vlog penso yep a domani goodnight guys